vai buongiorno a tutti benvenuti in costa pacifica vi faremo in questo video vi faremo vedere la la camera e la cabina interna oh mamma mia, sto parlando tutte le cose, ma stai a sapere di qua che si vince? il viaggio per la costa, il venturo, la costa a venezia vuoi abbandonare? fai vede pure il quadro buongiorno 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 buongiorno